bentornati sul mio canale dunque sono molto contento oggi di portarvi questo video fra l'altro mi vedete posizionato in maniera un po diversa sono seduto sulla mia nuova poltrona di cui vado molto fiero perché è molto comoda e quindi dicevo sono molto contento di portarvi questo video oggi perché perché insomma come avrete certamente appreso l'italia si trova in o meglio è appena iniziata una settimana particolarmente complicata per l'italia perché perché si sta avvicinando da un punto di vista meteorologico un nuovo una nuova ondata di caldo causata dal solito anticiclone nord africano fra l'altro si tratta di un'ondata che ha già raggiunto le regioni settentrionali è che da giovedì andrà a colpire anche tutto il resto della penisola meridione incluso io come sapete vivo a bari oggi siamo più o meno di poco al di sopra i 30 gradi quindi una temperatura assolutamente in linea con il periodo ma da giovedì sono previste temperature ben oltre i 35 gradi con punte anche superiori ai 40 gradi per cui insomma una settimana che sarà particolarmente difficile peraltro sembra che questa ondata di calore sia destinata a durare anche diversi giorni e quindi ho pensato che potesse essere finalmente il momento di pubblicare questo video a cui in realtà ho lavorato per diverse settimane ed è relativo a come utilizzare correttamente il condizionatore ora detta così può sembrare un video estremamente banale ma in realtà è molto importante conoscere come funziona il condizionatore per poterlo utilizzare nella maniera corretta e utilizzare nella maniera corretta significa oggi utilizzarlo in maniera efficiente tanto da un punto di vista energetico quanto da un punto di vista delle performance di raffreddamento dell'ambiente temi peraltro importanti anche rispetto alla crisi energetica che sta vivendo il nostro paese e ovviamente rispetto all'inquinamento perché nel momento in cui l'impianto del condizionatore viene messo sotto sforzo perché non viene utilizzato correttamente di fatto si va anche a forzare quella che è l'emissione dell'anidride carbonica quindi di co2 che è propria di questo genere di impianti e quindi andiamo anche ad aumentare l'inquinamento che è un altro di quei temi a cui bisogna fare particolarmente attenzione e allora non voglio dilungarmi oltre e andiamo quindi a comprendere innanzitutto come funziona il condizionatore così da poter poi capire il corretto funzionamento e quindi poterlo poi utilizzare in maniera efficiente quindi nella maniera corretta dunque innanzitutto bisogna sottolineare come i condizionatori da un punto di vista tecnico siano delle macchine termiche denominate pompe di calore perché si parla di pompe di calore perché la loro funzione è quella di sottrarre calore da un ambiente e cederlo ad un altro ambiente quindi sottrarre calore dall'ambiente interno su cui in cui vengono posizionati per poi come dire portare fuori il calore verso l'esterno ora questo questo funzionamento deve innanzitutto suggerire un aspetto molto importante che peraltro è stato oggetto di tantissime domande che ho ricevuto in queste settimane su instagram tantissimi di voi infatti mi hanno chiesto rispetto al famoso tema dei condizionatori portatili se effettivamente avesse senso acquistare dei condizionatori senza il tubo da posizionare verso l'esterno bene capite bene che come dire ragionando quindi vedendo i condizionatori come delle pompe di calore di fatto i condizionatori senza tubo esterno parliamo ovviamente dei condizionatori portatili non possono essere definiti condizionatori perché appunto senza il tubo esterno non posso non può verificarsi questo scambio di calore questo è molto importante fra l'altro ho in mente di realizzare ad hoc un video sui condizionatori portatili credo che ne dobbiate vedere uno qui alle mie spalle perché qui in studio utilizzo un condizionatore portatile e insomma realizzerò un video ad hoc per spiegarvi come scegliere il condizionatore portatile detto questo insomma questi condizionatori sono appunto delle macchine che devono sottrarre calore da un ambiente e cederlo ad un altro per far sì che questo fenomeno avvenga vengono sfruttate le proprietà termodinamiche di un fluido che viene chiamato di refrigerazione e questo fluido viene fatto fluire all'interno di un circuito chiuso per cui forzando dei cambi di stato da liquido a gassoso e variando la pressione è possibile appunto ottenere questo scambio di calore tra gli ambienti ora mi rendo conto come dire come si tratti di come dire un fenomeno o meglio un funzionamento di non semplice comprensione ma è bene sottolineare come questo cambio di pressione quindi questo come dire questo cambio di pressione per far sì che ci sia questa trasformazione da liquido a gassoso di fatto viene attuato dal compressore che nel caso dei condizionatori portatili è incluso all'interno della macchina nel caso dei condizionatori fissi a parete è appunto quell'unità che viene posizionata all'esterno ed è il compressore il maggior responsabile del consumo energetico del condizionatore quindi tutto questo ragionamento come si traduce poi come dire nel nell'utilizzo di tutti i giorni del condizionatore bene capite bene come nel momento in cui il condizionatore è chiamato a cedere calore dall'esterno dall'interno verso l'esterno giochi un ruolo fondamentale la differenza di temperatura perché affinché lo scambio di calore sia efficiente ci deve essere un opportuno gradiente di temperatura tra l'aria esterna e il liquido refrigerante all'interno del condensatore in modo da favorire il passaggio del calore di calore dal circuito della pompa di calore verso l'esterno questo che cosa significa significa che nel momento in cui noi abbiamo all'esterno una temperatura di 35 40 gradi non c'è cosa più sbagliata che impostare il condizionatore all'interno ad una temperatura di 20 21 22 gradi perché abbiamo una enorme differenza fra la temperatura impostata all'interno e l'effettiva temperatura esterna e tutto questo mette in estrema difficoltà il compressore che sarà chiamato quindi ad un sulprus di lavoro e non solo consumerà molta più energia ma difficilmente riuscirà a come dire ottenere il risultato di temperatura che è stato richiesto dall'utente quindi la prima cosa da comprendere è che è assolutamente sbagliato impostare una temperatura troppo bassa all'interno perché davvero non consentiamo al circuito di funzionamento del condizionatore di funzionare nella maniera adeguata non a caso tutti i produttori consigliano di non impostare la temperatura interna del condizionatore oltre una differenza di 6 8 gradi rispetto alla temperatura esterna cosa significa significa che se all'esterno abbiamo 35 gradi significa che dovremo impostare il condizionatore attorno ai 27 gradi si tratta di un valore troppo alto potrete magari pensare ma ora considerando tutto il processo che vi ho raccontato in realtà non è un valore troppo elevato ma è il valore corretto noi dobbiamo sempre ragionare sul fatto che il condizionatore non deve portarci a come dire una temperatura prossima a quella invernale che solitamente sia all'interno delle abitazioni ma il condizionatore deve portarci ad una temperatura che consenta di avere un ambiente vivibile anche nelle torride giornate estive per altro come dire lo sappiamo impostare una temperatura estremamente bassa non fa neanche benissimo la nostra salute perché chiaramente ci sottopone ad uno sbalzo termico dall'esterno all'interno che davvero può provocare tutta una serie di problematiche che insomma non devo essere io a spiegarvi quindi al netto di quelle che sono le caratteristiche del condizionatore perché ovviamente il condizionatore poi va giù va scelto come dire nella maniera dimensionata rispetto a quella che poi come dire la grandezza dell'ambiente in cui il condizionatore sarà chiamato ad operare qui entrano in ballo i btu insomma tutte le caratteristiche tecniche del condizionatore che ripeto avrò modo di raccontarvi in un video pensato ad hoc nei prossimi giorni ma ci tenevo a fare questo video proprio perché siamo prossimi ormai all'arrivo di questa ondata di calore e lo ripeto in alcune zone d'italia soprattutto nel settentrione di fatto l'ondata di calore è già arrivata e quindi ci tenevo a realizzare questo video ora è chiaro che l'efficienza del condizionatore dipende poi da tutta una serie di fattori importanti che dipendono anche direttamente dall'utente esempio classico azionare il condizionatore e avere la finestra aperta quindi continuare ad alimentare il caldo dell'ambiente su cui il condizionatore sta cercando di scambiare caldo verso l'esterno è chiaro che rende l'azione del condizionatore ancora meno efficiente e soprattutto spinge il condizionatore a lavorare come dire in maniera sempre più importante rispetto chiaramente al compressore e quindi a sprecare ulteriormente l'energia quindi lo ricordo lo sottolineo voglio ulteriormente sottolinearlo prima di salutarvi non impostate una temperatura troppo bassa all'interno rispetto alla temperatura esterna non andate oltre a una differenza di 6 8 gradi in questo modo riuscirete ad avere un ambiente interno assolutamente vivibile piacevole nonostante il grande caldo esterno e al tempo stesso consumerete una giusta quantità di energia in un momento storico in cui come dire l'energia non è mai stata così importante così preziosa bene io per questo video concluso vi inserisco comunque in descrizione la mia bacheca amazon in cui inserirò anche alcuni consigli rispetto all'acquisto dei condizionatori come sempre come dire si tratta di una bacheca work in progress per cui piano piano la sto popolando con tutti i miei consigli agli acquisti fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e mi raccomando utilizzate il condizionatore in maniera responsabile noi ci vediamo nei prossimi giorni ciao